Rimodulata la programmazione della distribuzione idrica a San Cataldo, secondo il calendario infatti la stessa viene garantita alle utenze dei settori 2, 5 e 6 nella giornata di martedì 8 marzo, mercoledì 9 marzo invece per i settori 3, 4 e 6, giovedì 10 marzo settori 1, 5 e 6, venerdì 11 marzo settori 4 e 6. Sarebbe stata infatti risolta la criticità che aveva portato Siciliacque ad interrompere, si legge nella nota di Caltacqua, la programmata attività di rifornimento dei serbatoi che alimentano il territorio di San Cataldo.